Ok, la registrazione è partita, possiamo iniziare. A te, Simone. Mi dai la condivisione? Ce la dovresti avere, perché sei relatore, perché tu stai già condividendo il tuo schermo. Ok, giusto, va bene. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Come ha detto, Simona, sono ambasciatori twinning, io continuo a definirmi i twinning. Ora anche Erasmus, siamo diventati tutti così. Ma questa è la premessa al fatto che io vi parlerò questa sera della parte relativa all'internazionalizzazione, grazie all'utilizzo della piattaforma e-tweening, e poi Annalisa invece si concentrerà più su Erasmus Plus. Allora, eccoci qui. Perché vi parlo di e-tweening? Vado su tre slide che poi abbandono, vorrei subito tranquillizzarvi. Perché i twinning? Cosa mi permette di fare? Parlando di internazionalizzazione, immagino che se vi siete iscritti è perché siate interessati all'aspetto relativo appunto alla possibilità di coinvolgere la vostra scuola, le vostre classi, i vostri alunni in attività collaborative con scuole straniere, con alunni stranieri, lavorando su obiettivi comuni, che possono essere dei più semplici, dei più complicati, quelli maggiormente strutturati. L'internazionalizzazione in questa parte di webinar vedremo che può, anzi, sicuramente, deve iniziare in una prima fase online. Per quanto riguarda i contatti, per quanto riguarda i primi scambi di contatto, di condivisione degli obiettivi, della tipologia di lavoro che si vuole svolgere. Lo stesso programma Erasmus+, come vedete, inserisce nella pagina dedicata un tra i vari aspetti e il link direttamente alla pagina di eTwinning. Questo perché? Perché eTwinning è ciò che in Erasmus si vorrebbe utilizzare come strumento principale per lo scambio di materiali e di comunicazioni all'interno degli stessi progetti Erasmus. Sicuramente l'utilizzo della piattaforma eTwinning è un elemento di arricchimento per un progetto Erasmus e sicuramente viene valutato in maniera sicuramente positiva all'interno del progetto stesso, anche in fase di valutazione. In eTwinning posso fare progetti, sia progetti dedicati unicamente al mondo virtuale, quindi che avvengono senza incontri diretti, quindi sulla piattaforma eTwinning, che adesso andremo a vedere. Possiamo lavorare sulla formazione, formazione nostra, autoformazione, in varie tipologie, in varie possibilità di lavoro, quindi formazione breve, formazione più lunga, distanza, presenziale in alcuni casi. eTwinning ci offre anche una possibilità di riconoscimento, riconoscimento non nel senso di premi, ma nel senso di riconoscimento a livello internazionale tra colleghi, nel senso che nel momento in cui mi trovo a collaborare con un collega di una scuola straniera che vedo essere iscritto a eTwinning, che magari vedo in piattaforma che ha vinto dei quality label, quindi dei premi di qualità riferiti a progetti che ha svolto, sicuramente so già di avere a che fare con una persona già predisposta ad un lavoro di squadra, a un lavoro internazionale, probabilmente organizzata, è già capace di utilizzare tools, utilizzare app che permettano di coinvolgere facilmente i nostri ragazzi in un lavoro che non sempre in un primo momento è facile per loro, richiede un po' di uscire da quella zona di comfort del compito assegnato per la lezione successiva, dal libro o anche dalla ricerca in internet, ma finalizzata ad un lavoro specifico. Ecco qua, passo alla fase, alla parola successiva che è la parola scambio, in un progetto eTwinning, ecco le attività che avvengono per i ragazzi sono finalizzate ad uno scambio di informazioni, uno scambio di competenze, quindi di know-how, la capacità di riuscire tramite un buon apprendimento tra pari, non solo a lavorare su contenuti, ma anche su metodologie di lavoro, quindi anche la capacità di insegnare l'un l'altro come arrivare a determinati risultati. Quindi, eTwinning è la base per un lavoro di gruppo, lavoro internazionale, lavori in squadra, e un buon progetto eTwinning è sicuramente nel corso del tempo una possibilità di creare legami, reti e abitudini anche di lavoro con gruppi di colleghi europei per magari mettere le basi ad un progetto Erasmus. ed è qui che esco dalla presentazione e se le meravigliose possibilità di Casa Bionda lo concedono, la connessione me lo permette, andrei direttamente a lavorare con voi sulla piattaforma, a vedere un pochino la piattaforma, perché quando si parla di eTwinning e quindi di avvicinamento anche al mondo Erasmus, come dicevo, un progetto può darci già le basi per creare quella rete con la quale è possibile lavorare anche al di fuori della piattaforma eTwinning e quindi creare dei progetti Erasmus, oppure conoscere colleghi che inseriti dentro all'organizzazione Erasmus possono fornire ad esempio possibilità di scambio, di job shadowing anche a livello professionale per noi docenti, si crea insomma una serie di rapporti che possono permettere di arricchire non solo i ragazzi, non solo la nostra scuola ma anche noi come professionisti. La piattaforma della quale sentite parlare è ESEP, ormai sappiamo che ci dobbiamo iscrivere ad ESEP, scusate, si è, eccomi qua, ESEP è poi l'acronimo di European School Education Platform, ovviamente, che è la piattaforma europea che oggi ospita appunto E-Twinning, è una piattaforma della Commissione europea, quindi stiamo lavorando su siti istituzionali, anche tutto ciò che riguarda E-Twinning e che viene trattato qua in Italia, quindi tutto ciò che ha a che fare anche con l'unità nazionale e parte di una appunto istituzione europea, qua in Italia, come sapete, è gestito da Indire, con sede qua a Firenze. La piattaforma European School Education, come vedete, è divisa in diverse sezioni. Allora, non mi muoverò molto, più che altro per non dare l'effetto mal di mare muovendo le pagine, però mi limiterò a sottolineare quali sono le utilità delle varie parti, prima di andare poi a vedere nel dettaglio E-Twinning. Allora, per prima cosa, a parte la pagina iniziale, introduttiva, che vi consiglio, se non siete ancora registrati, di andare a vedere, perché qua proprio vi parla di registrazione, di come iscriversi alla piattaforma, soprattutto da, nella parte inferiore, scendo leggermente, tutte le indicazioni che spiegano come funziona la piattaforma e che soprattutto giustificano il fatto per cui vi si dice di stare tranquilli dal punto di vista della sicurezza, soprattutto per i vostri ragazzi. Allora, c'è una sezione dedicata alle informazioni, dove troviamo le informazioni sulla piattaforma, sull'organizzazione, i riferimenti ad E-Twinning, ora ci andremo, i partner di supporto, cliccandoci troverete molte istituzioni conosciute che fanno proprio parte del lavoro condiviso con l'European School Education, la parte dedicata alla formazione iniziale degli insegnanti e se ne parlava proprio prima di aprire la riunione, stiamo in questi giorni, abbiamo avuto degli incontri proprio anche per ciò che riguarda la ITE, la formazione dei futuri insegnanti, Twinning, e anche all'interno del percorso iniziale di formazione appunto in scienza della formazione primaria, nella quale i futuri insegnanti insieme ai loro tutor, insieme ai loro professori entrano a conoscere il mondo di Twinning, della progettazione europea, quindi che entra già alla base di quella che è la preparazione dei futuri docenti come uno dei mattoni fondamentali per costruire la nostra professionalità e la nostra stessa attività di insegnamento nel momento in cui si entri a lavorare a scuola. Questa foto mi piace, vedo gente di diversità, proprio rende l'idea di ciò che abbiamo visto nei giorni scorsi. Quindi a partire dalla formazione iniziale degli insegnanti all'attività vera e propria nostra che adesso andremo a vedere in piattaforma. C'è ovviamente riferimento alle agenzie nazionali, come ho detto la nostra italiana è a Firenze, ci sono i contatti ovviamente, e nelle parti successive, nelle altre parti, ci sono altri aspetti molto interessanti perché nella parte approfondimenti, l'ho messo in italiano, però vedrete che alcune parti della piattaforma, per quanto si scelga l'italiano, mantengono ancora l'inglese. Nella parte relativa approfondimenti c'è la possibilità di fare ricerche specifiche che ci possano interessare, possiamo inserire dei filtri di ricerca, qua in basso, filtri avanzati, ma altrimenti ci sono filtri veloci per la tipologia di contenuto, ciò che ci possa interessare, pubblicazioni specifiche, allora ne apro una, tanto per fare un esempio di questi link, però, allora, pubblicazioni, quindi ad esempio c'è una relazione recente, recente di oggi, ci picchia, di monitoraggio sull'impatto di twinning sulla formazione iniziale degli insegnanti, ecco, si parlava proprio di quello, insegnare, creare, innovare, anche questa del 21, insomma, effettivamente l'altra è qua sotto del 19 dicembre, insomma, quotidianamente ci sono articoli, pubblicazioni, che possono essere molto utili per avere idee su come impostare il nostro lavoro, c'è molto di più anche per avere idee, ci sono i teaching materials, che sono quelli che già in passato erano i kit, i twinning per iniziare, ora non ho cliccato, evidentemente, eccolo qua, ci sono le lesson plan già pronti, lo vedremo meglio ancora sulla parte relativa ai twinning, ci sono alcuni progetti che in passato hanno avuto successo particolare, hanno vinto premi o che semplicemente sono stati riconosciuti dall'agenzia, ecco qua ne metto uno per fare un esempio, sono stati riconosciuti dall'agenzia nazionale come progetto particolarmente riuscito, questi progetti sono stati, diciamo, decostruiti, analizzati e poi messi online scandendo passo a passo l'evoluzione del progetto in questione, affinché un e-twinner alle prime esperienze possa seguire passo a passo il progetto e evidentemente cambiando il tema, se si desidera, scegliendo qualcosa che possa essere anche più vicino alle nostre esigenze, però seguendo passo a passo c'è effettivamente la possibilità di portare a termine un progetto per la prima volta con la sicurezza di seguire tutti i passi necessari, tutti i passi importanti, quindi questo è un esempio, si possono trovare appunto tutorial, ricerche, pratiche, insomma merita sinceramente una navigata, ecco, da questo punto di vista. c'è una parte dedicata sempre, stiamo parlando di internazionalizzazione perché sono attività che in questo caso troviamo qua su questa piattaforma in italiano, però c'è la possibilità anche di seguire molti corsi che sono in inglese, in lingua straniera, che riguardano varie argomenti, varie discipline, qua la panoramica iniziale sta ad esempio puntando sul prossimo in partenza come vedete dal 15 gennaio al 29 gennaio, è in inglese, è dedicato al benessere in classe, è il tema di quest'anno, well being in the classroom, the what, why and how of fostering social and academic learning. Questo è, come vedete dal titolo, malgrado la foto indichi dei bimbi veramente piccini, il tema è molto ampio, l'apprendimento a livello sociale ed accademico chiaramente ci permette di utilizzare questa tematica poi in vari ambiti. Appunto dal punto di vista professionale abbiamo la possibilità di scegliere tra corsi di vario tipo, l'ho detto prima, la maggior parte sono online, brevi o anche dei MOOC di lunga durata con spesso la valutazione tra pari, quindi la possibilità anche di apprendere lavorando con gli altri a distanza e di poter accrescere le proprie competenze o anche semplicemente di trovare nuove idee, nuove proposte da girare i nostri alunni nelle nostre classi. C'è la possibilità di trovare webinar su argomenti di vario tipo, eventi e conferenze. Insomma, è un buon modo per tenersi al passo con quella che è la formazione a livello europeo legata proprio al tema di oggi, cioè all'internazionalizzazione. abbiamo poi la recognition, non so perché è rimasta in inglese, allora, come saprete, immagino che molti di voi lo sappiano, la nuova piattaforma ha assorbito dall'anno scorso tutti i dati, i progetti europei che sino all'anno scorso, sino all'anno prima stavano in altre piattaforme, quindi lo scorso anno non è stata sempre al massimo delle possibilità tecnologiche, non è sempre stata prontissima a rispondere alle esigenze dei docenti e quindi ha avuto dei piccoli bug, insomma, in fase di miglioramento e di sviluppo qualcosa, come vedete, restate, è rimasto. In questo caso ho tutti i nomi in italiano, recognition è rimasto in inglese e lo tradurranno presto, mi auguro. Recognition è quello che dicevo prima, ci sono diversi premi legati ai twinning, riconoscimenti esquisitamente simbolici, però importanti perché riconoscono il lavoro dei ragazzi, degli insegnanti anche ovviamente, perché insomma siamo noi che li guidiamo. I progetti twinning possono, in alcuni casi, non sempre, però se rispondono a caratteristiche di qualità ben definite già dall'Agenzia Nazionale che quindi si conoscono prima di iniziare un progetto, ecco, si può già lavorare volendo con quell'obiettivo anche, ripeto, per gratificarci e gratificare i nostri ragazzi c'è la possibilità appunto di vedere riconosciuto il quality level, il, diciamo, il premio di qualità. c'è quello nazionale c'è quello europeo quando il lavoro raggiunge un punteggio sul nazionale raggiunge un punteggio molto alto passa anche può essere può passare anche al quality level europeo che è uno strumento di valutazione del lavoro come vediamo che riguarda appunto docenti e alunni. c'è anche un altro riconoscimento importante l'e-twinning school level che spetta quelle scuole nelle quali ci siano una serie di caratteristiche particolari almeno due docenti abbiano vinto il quality level nell'anno precedente che ci siano più docenti iscritti in piattaforma e che ci siano delle attività nell'ultimo anno insomma ci sono alcune caratteristiche specifiche però ecco questo già ci fa capire che si è passato dal premiare il singolo con il suo gruppo classe al premiare la scuola che entra in questo contesto internazionale seppur virtuale c'è poi ci sono ancora altre piccole cose piccole ma non piccole in realtà il certificato europeo delle lingue è un altro premio molto importante riguarda progetti non solo i training ma progetti europei di vario tipo per i quali viene riconosciuta una particolare valore soprattutto per l'aspetto linguistico del progetto delle possibilità che offre di miglioramento a livello linguistico indipendentemente dal fatto che magari non sia un progetto basato sulle lingue ma un altro tipo di progetto ce ne sono alcuni tra i progetti premiati che sono veramente molto interessanti non riguardano solo la lingua inglese riguardano varie lingue in genere c'è un premio se guardate i risultati un premio per ogni lingua insegnata generalmente tra le principali in Italia e uno ovviamente per l'italiano lingua 2 ci sono delle attività molto interessanti non solo ci sono anche attività sulle lingue locali sui dialetti locali ecco il certificato europeo delle lingue premia premia davvero le eccellenze dal punto di vista dell'utilizzo della lingua non necessariamente straniera per lavorare sulle competenze anche non linguistiche dei ragazzi e c'è poi il premio anche il riconoscimento per l'eccellenza nell'accreditamento Erasmus ma di questo appunto non parlerò io oggi torniamo sempre al tema internazionalizzazione sulla parte relativa al fare rete questa è una parte fondamentale fare rete è la base del lavoro perché nel momento in cui creiamo una rete e il termine rete non deve spaventare una micro rete c'è c'era già nel momento in cui trovo un collega in un altro paese disposto a iniziare un progetto o due la rete poi la creiamo con i nostri ragazzi con ciò che comporta il progetto questa parte è anche molto interessante vi consiglio di dare un'occhiata c'è la parte c'è un overview generale poi la parte riferita alle scuole alle organizzazioni e l'altra molto interessante quella relativa al trovare i partner quindi partner finding in questo possiamo trovare appunto partner per con i quali lavorare c'è una sezione dedicata a Erasmus e c'è una sezione dedicata proprio ai cleaning a scuole che vogliono fare progetti cleaning sono già divise per anni 06 711 12 15 16 19 quindi per noi funziona molto bene nella divisione infanzia primaria secondaria di primo secondo grado e appunto cliccando sulle varie tipologie scusate sulle varie fasce d'età trovo progetti proposte di progetto come vedete e ne abbiamo vari che si possono vedere come esempio in genere in questa parte un docente scrive un post nel quale spiega che tipo di progetto vuole iniziare cosa sta cercando e questo è un modo per trovare progetti che abbiano delle basi alle quali ad aggiungersi in alternativa possiamo aggiungere noi un annuncio ad posting e possiamo mettere una nostra idea sono un insegnante ho una classe di 25 alunni di 14 15 anni vogliamo fare un progetto sul benessere in classe in lingua inglese cerchiamo partner interessati ad un progetto di questo genere generalmente nel giro di pochi non dico giorni addirittura ore abbiamo già delle risposte perché ci sono sempre colleghi interessati appunto ad iniziare attività di questo genere c'è poi la sezione relativa alle persone questo per cercare ad esempio colleghi che so che sono già registrati sui twinning e li voglio cercare e questo mi permette di fare direttamente una ricerca su su nominativi eccoli qua ho la possibilità di scorrere semplicemente in ordine alfabetico oppure di fare proprio una ricerca su un nome specifico e poi andiamo quasi alla al i twinning veri e proprio questo è un po' più lento se è lento non importa vado avanti non è un problema c'è la parte relativa ai progetti veri e propri eccoci qua qua si parla di progetti allora queste sono proposte vere e proprie quindi 20 dicembre 2023 questi sono quelli di ieri soltanto 1 2 3 allora quindi francese tra Francia e Grecia abbiamo inglese abbiamo un altro in inglese qua sotto 20 dicembre celebrating international world book day bello l'importanza della lettura anche questo mi interessa lo apro guardo che cosa propongono chi cercano i contatti ed entro in in alternativa se io invece ho progetti miei o interessi miei eccoci qua crea progetto e lancio un'idea posso creare un post di questo tipo ovviamente do un titolo ovviamente anche provvisorio poi si può cambiare se si decide e specifico che cosa ho intenzione di fare benissimo e dopo la parte relativa al fare rete con networking possiamo andare un pochino o solo dieci minuti più o meno ma almeno andiamo a vedere come funziona andiamo su i twinning come vedete qua io sono già mi sono già logato ho già fatto il login se non siete ancora registrati dovete fare prima la registrazione ovviamente su esap per poter per poter accedere a questa parte io vado su i twinning per vedere un pochino la piattaforma per chi non la conoscesse ecco è come vedete una eccolo qua un'interfaccia molto semplice facilmente comprensibile sembra uno dei tanti social che utilizziamo normalmente alle news agli aggiornamenti gli updates allora sulle news trovo le notizie importanti più recenti ad esempio qua c'è riferimento al cambio di posta elettronica per noi docenti su istruzione punto it qua ci ricorda che chi si fosse registrato sui twinning con quella mail deve deve segnalare il cambiamento anche sui twinning c'è riferimento agli twinning groups che ora andremo a vedere i gruppi twinning e poi ci sono gli updates gli updates possono proprio sembrare a facebook ad esempio come impostazione qua i miei i miei contatti colleghi con i quali ho lavorato in passato con i quali sto lavorando ecco stanno vedete qualcuno oggi a mezzogiorno ha messo gli auguri di Natale della propria scuola ha fatto delle infografie c'è un ci sono colleghi che stanno presentando un nuovo progetto c'è una collega che festeggia il quality label che ha avuto c'è la pubblicità del webinar di ieri no del 19 del gruppo Virgilio il webinar di Natale il gruppo Virgilio per chi si è appena iscritto o si iscriverà tra poco è un gruppo che consiglio perché proprio come Virgilio con Dante è il gruppo che guida i principianti nel mondo di i twinning nel primo nella prima scoperta del sito torno su scusate se muovo in questo modo voglio solo risalire e eccoci qui andiamo su è apparso un whatsapp sì perché no andiamo a vedere un mio progetto siamo sulla piattaforma questa è la parte che dicevo nella parte gruppi abbiamo una serie di possibilità di scelta per partecipare a gruppi sono una cosa molto importante allora qua li vediamo proprio in ordine assolutamente sparso come vedete si passa da il gruppo Virgilio al gruppo di amici del Lazio oppure posso creare un gruppo mio i gruppi in realtà sono moltissimi sono tanti e gruppi attivi come vedete sono 1769 anche in questo caso posso fare una ricerca tramite i filtri e quindi in base all'argomento alla lingua che mi interessa alla tipologia di lavoro che vorrei svolgere la metodologia che mi interessa ecco posso andare nello specifico a cercare qualcosa sono utili perché sempre parlando di internazionalizzazione mi permettono di confrontarmi con colleghi di tutta Europa sull'argomento specifico che ho cercato sono gruppi dedicati sono molto sono molto utili perché c'è davvero uno scambio di idee di materiali continuo e molto interessante poi c'è la parte che si chiama i miei progetti ovviamente qua ci sono i progetti dell'insegnante in questione nel mio caso i miei progetti sono un po' disordinati non sono tutti qua sono vado ad aprirne uno per fare vedere come è strutturato ma anche qui mi fermo poco perché appunto rimane poco tempo per me questo è un progetto dell'anno scorso in spagnolo quindi non vi non vi tedio con i dettagli io mi sono presentato insegno lingua e cultura spagnola in un liceo linguistico quindi i miei alunni usano i twinning in prima e in seconda soprattutto a livello linguistico scambi comunicativi su tematiche molto molto semplici essenziali invece in questo eccoci in questo caso è un progetto che ho fatto l'anno scorso con una mia quinta ed è un progetto di letteratura quindi è un un lavoro un pochino più più intenso però grazie appunto alla piattaforma siamo riusciti a lavorare su vari argomenti cercando di seguire dei passi molto importanti la cosa importante la principale per quanto mi riguarda è che abbiamo inserito il progetto a pieno titolo nella programmazione curricolare allora vado un secondo arrivo qua vai al twin space vado nel mio twin space che è lo spazio appunto di progetto dedicato eccoci qui e vediamo che ho una panoramica con il bollettino dei docenti cioè gli ultimi post da parte dei miei colleghi stanno festeggiando tutti il ricevimento del quality label abbiamo avuto il quality label in Italia sono usciti molto tardi e scusate continuano a scrivermi ora non riesco a staccare whatsapp che avevo sul computer eccomi qua scusate sono arrivati dicevo i quality label e quindi stiamo un po' festeggiando siamo stati gli ultimi quest'anno a riceverli quindi i nostri colleghi stavano aspettando di sapere e allora in questi giorni stiamo aggiornando tutti il nostro la nostra pagina eccoci qui pagina un progetto ecco qua proprio veramente cinque minuti e andiamo internazionalizzazione anche qua questo è un esempio di internazionalizzazione molto semplice è un'attività veloce veloce dell'anno scorso però casualmente l'ho scelta prima perché il periodo è questo l'anno scorso per far sì che i nostri ragazzi lavorassero in gruppi internazionali e quindi misti abbiamo proposto proprio pochi giorni prima di Natale una cosa molto semplice un padlet con gli auguri divisi per per scuole un gruppo di Bologna con un gruppo di Sofia un gruppo di Sofia con un gruppo di Leone in Spagna un gruppo di Leone per Bologna un gruppo mio di Firenze per Sofia in pratica abbiamo chiesto loro di decidere insieme due persone una app da utilizzare per creare la cartolina di insegnarsi a vicenda all'utilizzo di quest'app nel caso non la si conoscesse i ragazzi hanno conosciuto Genial lì hanno conosciuto Canva e chi ne usava uno lo ha insegnato ai colleghi agli amici ai compagni e hanno creato queste cartoline una cosa che sembra banale ma che lo è in questa attività effettivamente ma che in altre ci è stata molto utile è il feedback su ogni attività che svolgiamo in questo caso abbiamo alla fine dell'attività scritto le nostre conclusioni ad esempio abbiamo notato che mentre hanno lavorato volentieri subito nello scambiarsi i programmi cioè nell'insegnarsi a vicenda i vari programmi utilizzati c'è stata una soddisfazione minore rispetto al passato relativa alla soddisfazione vera e propria di ricevere qualcosa di fisico ecco della cartolina che arrivava a scuola del bustone pieno di cartoline che venivano distribuite la settimana prima di Natale appena arrivasse sì effettivamente è cambiato abbiamo provato questa cosa l'anno scorso e abbiamo visto che in questo caso è meglio tornare al passato l'anno prima ad esempio c'eravamo scambiati le cartoline e all'interno delle cartoline avevamo inserito anche semi di piante di fiori le cui foto ci siamo poi scambiati a primavera dopo averli piantati dopo averli fatti crescere in questo scambio reale è andato a creare un bosco di legami di amicizia eccetera ecco quello si aveva dato più soddisfazioni ogni anno si possono provare attività diverse e vedere quali funzionano quali piacciono i ragazzi e quali no una cosa importante e poi vi lascio progettare a livello europeo non ci deve spaventare in termini di tempo non ci deve spaventare in termini di impegno non è che se preparo un progetto non ho poi la possibilità di seguire il mio programma normalmente di portare avanti le mie il mio temario come si dice in spagnolo il programma previsto ecco ciò che ho previsto di fare la programmazione perché se guardate nella parte a sinistra dove ho inserito dove abbiamo inserito nel nostro Twin Space proprio il la progettazione ecco dell'attività nella parte relativa al piano di lavoro abbiamo proprio visto diverse eccolo qui aspetti che sono importanti perché oltre ad aver visto aver creato un piano in cui spieghiamo il progetto abbiamo dedicato un spazio proprio alla integrazione nel curricolo cioè abbiamo scelto argomenti che entrassero a far parte del curricolo di ognuno di noi della materia di ognuno di noi quindi la letteratura nel mio caso ma per molti colleghi può essere ad esempio il collegamento all'educazione civica oppure il collegamento ad un'altra materia in lingua straniera quindi la possibilità di svolgere di piccoli moduli CLIL vi ricordo che i twinning non è solo dedicato agli insegnanti di lingue ma anche agli insegnanti di disciplina non linguistica il livello linguistico che abbiamo non ci deve spaventare sono i ragazzi che devono scambiare tra di loro e che devono comunicare quindi il livello linguistico sarà loro non sarà mai un livello altissimo spesso lo è più del nostro e va bene però sono autonomi nel lavoro da quel punto di vista la nostra attività è quella di guidarli di strutturare un percorso da seguire di tutorare diciamo il percorso e verificare che vengono rispettati i vari step quindi il fatto che la programmazione entri all'interno del progetto o viceversa deve essere sicuramente motivo di tranquillità per noi ecco ci deve tranquillizzare sicuramente viene inserito il progetto di twinning nella nostra programmazione iniziale viene inserito nel TOF altra cosa molto importante perché nel TOF come sappiamo è giusto che risulti l'internazionalizzazione della scuola e quella è una delle possibilità Simona io lascerei lo spazio ad analisa perché se inizio a girare sul mio twin space perdiamo perdiamo troppo tempo ci sono tutte le parti ancora attive direi passiamo la palla ad analisa sì certo certo sì lo fai tu lo faccio io no no allora lo possiamo fare entrambi lo faccio io aspetta va bene sì infatti per quello grazie Simone grazie Simone niente sei sempre bravissimo comunque non si vedevano i tuoi whatsapp quindi tranquillo vedete il mio schermo sì si vede benissimo io sparisco così non tolgo il mio video e così mi funziona meglio e vediamo Simone ti conviene togliere il video un attimo ok si vede benissimo perfetto così è tutto schermo ok allora come sono stata presentata io sono analisa di pierro insegno inglese nell'istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci di Pisa allora quando dovevo preparare questa presentazione mi sono interrogato ho detto ma cosa vuol dire internazionalizzazione e ho trovato queste definizioni quindi creare attività che coinvolgono rapporti con l'estero nelle normali attività didattiche guardare oltre i confini nazionali aprirsi all'Europa è importante sappiamo per i ragazzi per i nostri studenti che possano fare più esperienze internazionali possibili e acquisiscano delle competenze trasversali quindi la mobilità è uno strumento essenziale per costruire l'internazionalizzazione questo spazio europeo per l'apprendimento permanente promuove l'occupazione riduce la povertà e contribuisce a promuovere un'attiva cittadinanza europea tutte cose che ci vengono chieste nella scuola moderna l'obiettivo principale della commissione europea è stato proprio quello di promuovere la mobilità degli studenti proprio per acquisire quindi queste competenze trasversali per migliorare l'inclusione la creatività l'innovazione a livello delle organizzazioni cioè delle nostre scuole nel campo quindi dell'istruzione e della formazione allora la struttura del nuovo Erasmus dire nuovo nel 2024 diciamo siamo per entrare nel 2024 sembra un po' ridicolo diciamo però nuovo rispetto al programma che esisteva prima dal 2021 è stato creato questo nuovo programma questa nuova struttura 2021 2027 abbiamo tre azioni chiave l'azione chiave 1 che si occupa di tutte le mobilità l'azione chiave 2 che invece si 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 interessa più di attività di cooperazione e poi l'azione chiave 3 che è il supporto alle politiche le priorità trasversali ora le guarderemo una per uno queste priorità trasversali che sono fondamentali nel momento in cui noi andiamo a scrivere un progetto allora il primo progetto che dobbiamo scrivere è sicuramente quello dell'accreditamento se non siete scuole accreditate e vi volete accreditare quindi la prima cosa che dovremmo scrivere sarà questo modulo questa candidatura per ottenere l'accreditamento che ci vale per tutti questi anni dal 2021 al 2027 quindi se la scriverete l'anno prossimo varrà dal 2024 al 2027 e questo veramente all'inizio era stata presa un po' ehm con il beneficio del dubbio ma invece vi assicuro che ehm portando avanti questi progetti Erasmus è stata veramente una cosa molto positiva molto interessante eh perché una volta che si scrive l'accreditamento eh poi non abbiamo più bisogno ogni anno di stare a riscrivere progetti eh vale quello per tutti questi anni dovremo semplicemente poi scrivere eh il il modulo di candidatura per ottenere eh i fondi per ogni annualità eh allora priorità trasversali le potete trovare qui nel sito erasmusplus.it che vi consiglio di eh visitare perché è eh il sito in cui troverete tutte le informazioni che eh che vi interessano che vi che vi servono e eh veramente mh è molto molto ehm completo e risolve tutti i nostri dubbi eh ora poi man mano vi farò vedere eh in che modo allora queste priorità eh sono quindi partecipazione inclusione sociale innovazione digitale e sostenibilità eh sempre per quanto riguarda l'accreditamento ecco sempre sul sito erasmusplus.it vi faccio vedere la la l'inizio di questo eh di questa pagina eh si parla quindi di mobilità e ci sono vedete accreditamento Erasmus richiesta di finanziamento allora l'accreditamento Erasmus è l'azione K A 120 mentre la richiesta di finanziamento si chiama K A 121 e e poi abbiamo progetti di mobilità a breve termine che invece si chiamano K A 122 che sono eh i progetti a cui possiamo partecipare se eh non abbiamo ricevuto l'accreditamento eh e però vogliamo comunque partecipare al programma Erasmus e e possiamo inviare questa candidatura invece per quanto riguarda l'azione chiave eh K A 2 abbiamo i partenariati di cooperazione che si chiamano K A 220 e partenariati su piccola scala K A 210 poi ci sono le T-Cioss Academy ma questo non è un'altra cosa Allora per quanto riguarda tutte queste mobilità abbiamo due agenzie l'agenzia Indire come vi diceva prima Simone che si trova a Firenze che si occupa di tutte le mobilità di tutti i progetti che riguardano la scuola invece abbiamo poi l'agenzia INAP che tratta dei progetti in cui si svolgono mobilità attività in aziende estere quindi stage all'estero che rientrano all'interno del PCTO quindi abbiamo due agenzie a cui inviare le candidature l'agenzia scuola se ci vogliamo indire che si interessa della scuola se vogliamo andare a visitare una scuola con i nostri studenti o anche noi docenti per la nostra formazione e invece l'INAP per le mobilità nelle aziende allora tornando alle priorità quindi partecipazione partecipazione e quindi si intende la partecipazione alla vita democratica impegnarsi a livello sociale e civile attraverso attività di apprendimento formale e non formale sensibilizzare gli studenti la scuola riguardo il contesto europeo i valori comuni dell'unione i principi di unità e diversità dell'unione europea qui poi abbiamo l'inclusione ecco questo è una priorità su cui la commissione europea fa moltissima leva è una priorità diciamo fra le più che considera fra le più importanti perché promuoviamo con l'inclusione la possibilità di accedere a queste mobilità o questi partenariati a studenti che hanno delle opportunità minori sia per un disagio economico sia per un disagio sociale sia per un disagio fisico cioè si vuole sottolineare l'importanza di dare a studenti che non hanno le possibilità per esempio economiche o anche per un disagio sociale di viaggiare ugualmente allo stesso livello di altri studenti che se lo possono permettere insomma quindi inclusione è fondamentale ci sono anche delle linee guida che sono state scritte proprio per l'inclusione queste linee guida scritte appunto dalla commissione europea le potete trovare sono in inglese però le potete trovare nel sito dell'unione europea ecco qui per quanto riguarda l'inclusione troverete dettagliata la spiegazione di che cosa significa per la comunità europea inclusione quindi principi di uguaglianza e inclusività quindi non discriminare in base a che ne so al genere femminile maschile alla religione o altre o altre cose poi abbiamo l'innovazione digitale anche qui è stato scritto un piano proprio per sostenere incrementare l'uso del digitale nella nella nostra pratica quotidiana didattica apro il link ecco e c'è proprio un piano d'azione per l'istruzione digitale redatto sempre dalla commissione europea che è molto interessante da leggere può fornire moltissimi spunti non solo per creare dei progetti Erasmus ma anche per altre occasioni quindi il piano intende rafforzare la cooperazione a livello europeo per accompagnare l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione nell'era digitale e poi abbiamo la sostenibilità anche qui molto importante la sostenibilità il green deal europeo la commissione ha stilato questo patto diciamo questo patto verde per la sostenibilità mettendo in evidenza alcune strategie alcuni obiettivi come per esempio quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 sarà difficile ma comunque ecco qui sappiamo che abbiamo visto insomma c'è stata questo incontro la COP28 e quindi ci sono varie informazioni ora poi magari se siete interessati vi potremo fornire anche queste slide dove ci sono tutti i link e sarà più semplice per voi ritrovare queste pagine di questi siti quindi sostenibilità e anche qui la Commissione Europea come si dice promuove il più possibile l'uso di mezzi di trasporto verdi come per esempio il treno o gli autobus per spostarsi durante le mobilità vedrete che saranno finanziati delle somme più grosse proprio per permettere questa mobilità verde queste sono le priorità trasversali che dobbiamo tenere ben presente quando scriviamo sia l'accreditamento che gli altri progetti K122 o K2 220 eccetera allora a chi quali sono i paesi qui ho messo questa cartina come vedete in blu ci sono tutti i paesi che aderiscono che fanno parte dell'Unione Europea quelli grigi non fanno parte dell'Unione Europea quindi la Gran Bretagna non fa parte dell'Unione Europea e quelli in celeste sono dei delle nazioni come per esempio la Turchia o l'Islanda che non fanno parte della comunità europea però aderiscono al programma Erasmus quindi comunque si può viaggiare si possono svolgere mobilità in questi paesi allora parliamo dell'Azione Chiave 1 che comprende tutte le mobilità quindi anche se io voglio sviluppare un progetto di paternariato le mobilità comunque devono sempre fare parte di questa azione chiave K1 l'accreditamento il prossimo la prossima call cioè il prossimo momento in cui si potrà inviare la candidatura per ottenere l'accreditamento sarà il primo ottobre del 2024 quindi abbiamo tutto il tempo avete tutto il tempo chi ancora non è una scuola accreditata per poter presentare la propria candidatura quindi avete tutto il tempo per soppesare decidere i vari punti da inserire nella candidatura che ora vi farò vedere di cui vi parlerò invece per quanto riguarda la K121 cioè la richiesta di budget essendo già accreditati la scadenza è il 20 di febbraio del 2024 ugualmente per i progetti di breve durata o di breve termine che sono K122 sempre 20 febbraio del 2024 allora se siamo accreditati possiamo richiedere il budget se non siamo accreditati possiamo candidarci per scrivere un progetto K122 inoltre senza candidatura possiamo senza partecipare a un consorzio già accreditato cioè un consorzio accreditato significa un gruppo di scuole che hanno creato rete e quindi noi possiamo far parte di questo consorzio però la scuola capofila deve essere una scuola accreditata possiamo ancora ospitare staff e studenti stranieri possiamo ospitare staff significa possiamo ospitare docenti che vengono a svolgere nelle nostre scuole delle attività di job shadowing cioè di osservazione o possiamo anche ospitare degli studenti che vogliono svolgere nelle nostre scuole delle attività di co-docenza apro questo link così vi faccio sempre vedere cosa sono sempre sul sito eccolo qui erasmusplus.it cosa sono i progetti di breve durata i progetti di breve durata sono progetti per le scuole che non hanno quindi l'accreditamento sono dei progetti più brevi diciamo perché vanno da 6 a 18 mesi il finanziamento è un finanziamento anche minore che viene comunque calcolato sui costi unitari ecco ora qui c'è da fare una differenza tra costi unitari e costi reali i costi unitari sono quei costi che ci vengono riconosciuti in base ad alcune specifiche che la commissione europea ha deciso per esempio un docente che vuole recarsi o uno studente perché queste somme sono state decise sia per gli studenti che per i docenti uno studente o un docente che vuole recarsi in Ungheria giornalmente potrà spendere vi faccio un esempio così non è quello esatto perché ora non me lo ricordo di preciso qual è potrà spendere 30 euro al giorno ok se il docente e lo studente ne spende 20 quelle 10 euro in più che ci avanzano non le dobbiamo restituire alla commissione europea quando faremo la rendicontazione cioè ci viene finanziata ci viene accreditata quella somma a prescindere da quella che noi spendiamo anche se ne spendiamo di più non è che ci viene rimborsato quello che spenderemo di più invece i costi reali sono proprio i costi quelli precisi se io spendo 25 euro e 50 mi verrà restituito 25 euro e 50 ecco quindi questi sono i costi unitari quando candidarsi no ve l'ho detto già prima per i progetti di breve durata la candidatura la scadenza è il 20 di febbraio allora tornando qui mobilità per lo staff e per gli alunni l'accreditamento ve lo ripeto K120 la richiesta di finanziamento per le scuole accreditate K121 progetti di mobilità di breve periodo K122 a cui possiamo partecipare anche se non siamo accreditati chi si può spostare chi può svolgere queste mobilità abbiamo le mobilità dello staff che consistono in corsi di formazione all'estero in scuole all'estero corsi di formazione sia sulle metodologie che per esempio su corsi di lingua si vuole fare un corso di inglese un corso di spagnolo si può andare all'estero e fare questo corso attività di insegnamento io voglio andare a provare a insegnare in una scuola in Grecia vediamo come me la cavo a insegnare in Grecia chiaramente dovrò adoperare una lingua comunitaria se non conosco il greco si predilige l'inglese oppure job shadowing che sono le attività di osservazione io voglio andare a vedere come insegna l'educazione fisica in Belgio ok quindi trovo una scuola che mi ospita per una settimana e io ho una somma a mia disposizione che con cui pagare il viaggio l'alloggio il vitto insomma i miei bisogni di spostamenti la mobilità degli alunni qui abbiamo una diversità in quanto gli alunni si possono spostare in gruppo si possono spostare in gruppo accompagnati da un docente o da due docenti e si possono spostare anche singolarmente mobilità individuale breve se io mi voglio voglio far viaggiare uno studente per una settimana o di lunga durata se voglio farlo viaggiare visitare una scuola andare fare lezioni in una scuola all'estero per 15 giorni un mese tre mesi e poi ci sono altre opzioni come per esempio invitare esperti visite preparatorie ospitare docenti e tirocinanti allora invitare esperti cosa significa significa che io per esempio conosco un docente francese molto bravo conosciuto o lo cerco anche sui twinning come vi faceva vedere prima Simone è possibile individuare sui twinning cercare docenti di tutte le nazioni che fanno parte dell'Europa e lo voglio invitare nella mia scuola per fare delle lezioni in classe o per fare delle lezioni con i docenti visite preparatorie io voglio far viaggiare i miei studenti in una scuola in Andalusia una scuola che non conosco ho preso contatti con il docente referente Erasmus di quella scuola però non conosco nulla non so nulla di questa scuola allora posso fare una visita preparatoria cioè posso andare mettiamo per tre giorni perché le visite preparatorie sono molto brevi posso andare per tre giorni a conoscere questa scuola prima di far partire gli studenti in maniera tale che mi rendo conto se ho scelto bene se quella scuola è proprio adatta a ospitare i miei docenti posso come vi ho detto ospitare docenti e tirocinanti ecco questa è una cosa molto importante in questo sito erasmusintern.org è possibile trovare questo è un sito come fosse un po' un'agenzia di collocamento diciamo nel senso in questo sito si possono trovare offerte e richieste si possono ecco qui internship per esempio se voglio che far fare delle esperienze di lavorative in aziende europee oppure se io voglio ospitare qualche studente magari già laureato che è l'ultimo anno di dell'università che viene nella mia scuola e fa conversazione con i miei studenti fa un'attività di codocenza dove lo trovo questo è un sito molto importante in cui si possono trovare scrivere sia le nostre richieste che poi anche leggere le varie offerte vado avanti ecco qui più nel dettaglio quello che vi ho appena detto quindi invitare esperti da 2 a 60 giorni ospitare insegnanti educatori in formazione l'istituto ospitante riceve 100 euro a ospite il resto tutte le altre spese invece il partecipante le riceverà dall'agenzia Erasmus della sua nazione e la durata può variare da 10 a 365 giorni per quanto riguarda le visite preparatorie gli job shadowing anche qui da 2 a 60 giorni e la partecipazione a corsi di formazione anche qui da 2 a 30 giorni oltre alla mobilità fisica è anche possibile svolgere delle attività virtuali per esempio alcune scuole offrono anche dei corsi di formazione online e comunque è sempre meglio partire muovere muoversi conoscere la cultura dei paesi dove si vuole andare comunque se dovessimo avere qualche difficoltà questo è stato creato questa possibilità di fare queste mobilità virtuali è stata creata naturalmente quando c'è stato il periodo del del lockdown in cui non si poteva più partire e comunque per non perdere diciamo la possibilità di avere comunque dei contatti internazionali era stata creata quindi la possibilità di avere queste attività virtuali allora per quanto riguarda la mobilità di gruppo come vi dicevo prima il gruppo deve essere accompagnato per tutta la durata dell'attività mentre per la mobilità individuale che va da 10 giorni a 29 giorni qui non c'è non è necessario accompagnare gli studenti gli studenti possono viaggiare da soli ovviamente saranno degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ugualmente per la mobilità individuale che va da un mese a un anno allora quando si scrive l'accreditamento o qualunque altro progetto Erasmus quindi oltre alle priorità di cui vi parlavo prima alcuni principi che vengono considerati dai da chi valuterà il nostro progetto sono la buona gestione la titolarità la condivisione la qualità e il supporto ai partecipanti ora oltre le priorità trasversali di cui vi parlavo prima inclusione digitale sostenibilità anche questi altri elementi quindi una buona gestione del progetto cosa significa seguire il progetto dall'inizio alla fine sempre creare un team nella scuola che si occupi della gestione del progetto perché gli aspetti sono tanti e quindi una sola persona non può farlo a meno che non abbia che dire otto ore alla settimana da poter dedicare a questi progetti Erasmus la titolarità cioè la scuola deve mantenere la titolarità del progetto sempre non può affidarsi a agenzie esterne e la condivisione cioè il progetto deve essere condiviso il più possibile con tutti i docenti della scuola e deve cercare di far partecipare quanti più studenti è possibile studenti anche di varie per esempio se siamo in un comprensivo studenti della primaria studenti del primo grado oppure se siamo in un secondo grado vari indirizzi ecco condividere il più possibile condividere anche ovviamente con con le famiglie con enti esterni con stampa eccetera quindi dare la maggior diffusione possibile del progetto all'esterno della scuola qualità ecco questa è una cosa molto importante ora approfondiremo questo questo argomento è supporto ai partecipanti supporto ai partecipanti significa che non è che io posso decidere per esempio partono dieci docenti e lasciare a questi dieci docenti tutte le incompenze di trovare il corso di formazione di preoccuparsi dell'alloggio del biglietto euro di pagare il corso e tutto quanto no bisogna appunto che il team nel team nella commissione nella mia scuola noi chiamiamo commissione erasmus il lavoro sia condiviso per cui c'è chi si occupa del viaggio dei docenti o degli studenti chi si occupa anche della rendicontazione perché quello è un'altra parte molto grossa importante chi si occupa della disseminazione eccetera i progetti K2 allora i progetti abbiamo detto partenariati su piccola scala partenariati per la cooperazione partenariati per la cooperazione sono dei partenariati molto grossi molto impegnativi come vedete qui ci sono sempre le priorità di cui abbiamo parlato prima orizzontali e poi le priorità per proprio per il settore per l'istruzione scolastica specifiche per l'istruzione scolastica quindi sviluppare competenze chiave promuovere un metodo globale di insegnamento apprendimento delle lingue promuovere le discipline STEM contrastare lo svantaggio l'abbandono scolastico eccetera e questi partenariati non prevedono mobilità se non giustificate come indispensabili necessarie per la per la buon riuscita del del progetto per raggiungere gli obiettivi prefissati perché altrimenti le mobilità come vi ho detto fanno parte tutte della dell'azione chiave 1 devono partecipare almeno tre organizzazioni cioè tre scuole di tre diversi paesi la durata varia da 12 mesi a 36 mesi quindi come vedete sono dei progetti molto impegnativi e il finanziamento varia da 120.000 euro a 400.000 euro ora chiaramente se non abbiamo pratica se non abbiamo già svolto altri progetti altri è meglio cominciare con quelli K122 di cui vi dicevo prima o questi su piccola scala K2 210 anche qui abbiamo sempre le priorità orizzontali e le priorità proprio proprie della scuola qui invece le scuole che possono partecipare sono almeno due e il progetto avrà una durata che va da sei mesi a 24 mesi e il finanziamento come vedete qui è più piccolo da 30.000 a 60.000 euro ora ovviamente se io scrivo che voglio realizzare questo progetto con 60.000 euro poi però devo motivare devo giustificare devo rendicontare 60.000 euro non è che io dico 60.000 euro e poi ne spendo 35 ecco quindi è sempre meglio essere precisi su queste somme che si devono richiedere un attimo perché volevo chiudere qualche finestra altrimenti allora le piattaforme quindi i twinning è fondamentale come vi diceva Simone prima perché ci dà la possibilità di rintracciare docenti scuole con cui collaborare e poi abbiamo School Education Gateway che fa sempre parte di ESEP in cui trovare corsi di formazione perché io voglio andare per esempio mettiamo in Irlanda ma non so in Irlanda dove andare quindi ho bisogno di un sito che è proprio questo School Education Gateway che ha un catalogo di scuole diciamo accreditate insomma abbastanza sicure perché poi sappiamo che la scuola la fa sempre il docente quindi questo questo sito che fa parte sempre di Erasmus di eTwinning ha diciamo offre una certa sicurezza sulle scuole che si trovano nel catalogo però è chiaro che poi si può sempre rimanere anche delusi perché magari quel docente che si trova a svolgere il nostro il corso a cui noi ci siamo iscritti magari non ci ha soddisfatto tanto però diciamo che le scuole sono abbastanza increditate allora qui ho messo un link dove ci sono tante informazioni interessanti sempre sul sito erasmusplus.it potete trovare tutte queste informazioni su risorse e strumenti vedete ci sono varie sezioni risorse e strumenti ci sono le registrazioni o le slide di vari infoday che sono stati svolti finora per i vari per le varie azioni chiave 122 220 210 120 eccetera ci sono criteri di valutazione che sono che bisogna sempre tenere presente quando si iscrive un progetto o un accreditamento e ci sono varie informazioni per esempio preparare la candidatura per l'accreditamento o per i vari partenariati l'utilizzo delle somme forfettarie insomma ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno avete tempo e quindi potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno in questi mesi e comunque la nostra gli ambasciatori della Toscana sicuramente organizzeranno tanti altri con l'anno nuovo diciamo organizzeranno tanti altri webinar tanti altri incontri per aiutarvi accompagnarvi nella scrittura di queste candidature poi abbiamo anche esempi di buone pratiche ecco questo anche è molto importante c'è questa pagina dove potete trovare degli esempi chiaramente bisogna fare una ricerca scrivendo ci sono dei filtri o altrimenti si scrive direttamente qui un argomento e poi come qui per esempio vi fa vedere questo esempio employment impiego o climate change cambiamento climatico se io scrivo cambiamento climatico poi mi appariranno tutti i progetti che hanno trattato di cambiamento climatico e quindi posso vedere come hanno sviluppato il loro progetto posso trarre ispirazione allora per quanto riguarda il web form cioè il modulo dove scrivere le candidature in questo momento questa pagina della commissione europea troverete solamente i moduli di candidatura per il K A 121 per la richiesta del budget qui vedete ADU SCH che significa school scuola e VET ok quindi a seconda di dove voi avete avuto l'accreditamento per esempio per la scuola e quindi scriverete questo modulo di candidatura per la scuola se invece avete avuto l'accreditamento per svolgere attività di apprendistato all'estero scriverete quest'altra candidatura e questa per gli adulti non ci sono al momento le candidature e ci sono anche quelle del 122 quindi 121 e 122 se volete scrivere una candidatura potete cliccare qui e fare una prova e poi non la inviate fate solo una prova e vi rendete conto delle cose che vengono chieste non ci sono i moduli per l'accreditamento perché come vi ho detto quelli ci saranno in prossimità della scadenza che è a ottobre allora il modulo di accreditamento ha varie fasi però innanzitutto c'è questo Erasmus Plan quindi c'è il background quindi chi siamo parliamo della nostra scuola perché ci vogliamo candidare quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere ecco qui vi parlo quando vi ho fatto vedere quella slide prima no sono andata avanti oh scusate non riesco devo andare un attimo indietro ecco quando in questo slide vi parlavo di qualità ok è proprio qui cosa vuoi raggiungere quali sono i nostri obiettivi come li vogliamo raggiungere che attività vogliamo far svolgere ai nostri studenti ai docenti della scuola come garantirai gli standard di qualità come hai intenzione di lavorare che risorse hai intenzione di investire queste sono tutte le domande fondamentali che fanno parte dell'Erasmus Plan di questa prima parte del modulo di candidatura e i documenti strategici che si possono allegare e che sono da cui possiamo trarre anche gli obiettivi sono naturalmente il TOF il RAV il piano di miglioramento la rendicontazione sociale ma ce ne sono anche altri per esempio il piano di internazionalizzazione è bene che ogni scuola scriva un proprio piano di internazionalizzazione cioè quindi come intende la scuola rendersi internazionale che cosa cosa vuole fare ospitare docenti europei varie altre attività ecco l'Erasmus Plan ha queste sezioni di cui vi parlavo prima obiettivi attività standard di qualità e gestione quindi l'Erasmus Plan è proprio il link tra le attività di mobilità proposte i bisogni e gli obiettivi del candidato si risponde a una domanda in che modo l'accreditamento sostiene e favorisce l'internazionalizzazione della scuola promuove lo sviluppo delle competenze dello staff degli alunni e dello staff quindi dello staff e degli alunni scusate qui c'è una ripetizione quindi questo è fondamentale il nostro piano Erasmus quali sono i nostri obiettivi perché vogliamo rendere la nostra scuola internazionale e come pensiamo di raggiungere questi obiettivi vi consiglio di non scrivere troppi obiettivi perché poi anche chi valuta insomma il troppo storpia sempre è meglio avere tre obiettivi ecco qui ci sono i miei consigli creare un team di lavoro creare il piano per l'internazionalizzazione controllare i criteri di valutazione del progetto quindi andare a leggersi quali sono i criteri di valutazione e non scegliere troppi obiettivi perché troppi obiettivi poi è difficile anche raggiungerli perché poi alla fine del progetto noi dovremo fare la rendicontazione dovremo scrivere un rapporto finale e dovremmo anche quindi spiegare come abbiamo raggiunto tutti questi obiettivi e il che diventa un po' complesso complicato quindi meglio pochi obiettivi ma chiari che siano propri della scuola che appartengano proprio alla scuola quindi non fate scrivere l'Erasmus Plan da agenzie esterne perché devono essere proprio si devono riferire quindi a quei a quei documenti di cui vi ho parlato prima che sono appunto il PTOF il RAV il piano di miglioramento la rendicontazione sociale che un'agenzia esterna non conosce non può conoscere siamo noi che lavoriamo nella scuola che sappiamo quali sono effettivamente le esigenze della scuola cosa vogliamo ottenere con la formazione dei nostri docenti quale deve essere la ricaduta ecco questo è fondamentale qual è la ricaduta di un corso di formazione nell'attività didattica dei docenti come si può migliorare quindi l'attività didattica della nostra scuola tramite un progetto Erasmus come possono gli studenti migliorare le proprie la propria performance i propri risultati le proprie competenze le proprie conoscenze attraverso un progetto Erasmus quindi bisogna veramente calare il progetto nella nella realtà non rimanere nella nel generale nei bei discorsi che siamo tanto bravi a scrivere a fare ma il più possibile rimanere legati collegati alle esigenze della scuola questi poi ci sono ecco i criteri di valutazione come vi avevo detto esiste la guida online che esiste anche in italiano per i criteri di valutazione verrà data una rilevanza di 10 punti cioè verranno dati 10 punti alla rilevanza del del progetto 40 punti massimo questi sono sempre massimo agli obiettivi 20 punti al piano Erasmus e 30 punti alla gestione anche qui la gestione bisogna spiegare come si vuole gestire questa massa di docenti e di studenti che partono ci saranno delle dei 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 docenti delle persone che si occuperanno della gestione ecco spiegare come sarà gestito tutto il progetto il minimo che bisogna ottenere è 70 punti 70 su 100 ok naturalmente poi dipende anche dalla dalla somma che l'agenzia indire che la commissione europea metterà a disposizione per questi progetti perché naturalmente siccome sono tante le scuole che partecipano è chiaro che 70 punti non basta non bisogna riuscire a ottenere molti più punti per avere il finanziamento ok qui poi infine ci sono questi questi contatti con l'agenzia indire per sia di mail che telefonici per avere dei chiarimenti su alcuni dubbi che possono sorgere e questa invece è la mia mail e comunque anche il sito erasmusplus.it scuola ambasciatori erasmus scuola dove potete trovare tutti gli ambasciatori italiani della toscana allora io diciamo che in grandi linee penso di aver trattato tutto però non so se ci sono delle domande non sono andata a guardare la adesso io penserei di fare così siccome mancano una ventina di minuti più o meno pensavo di finire io con alcune slide e poi ci sono delle domande e poi le guardiamo insieme intanto intanto ecco io passerei mi auto passerei la palla diciamo in modo tale che così mostro schermo ecco qua allora aspettate perché dunque andiamo andiamo avanti poi magari ci saranno ci sarà occasione per per parlare anche dell'argomento dell'argomento che avevo preparato comunque sicuramente le cose che avete detto sia sui training che su erasmus sono degli ottimi punti di riferimento sia per chi sta infatti le domande se poi le vedete sono sia diciamo di chi non ha ancora fatto esperienza sia di chi invece ha fatto esperienza almeno quelle che ho visto io fin tanto che voi parlavate che seguivo vi volevo raccontare a chiusura veramente di quest'anno 2023 che è stato appunto un biennio di attività e twinning ed erasmus nostre del gruppo toscano raccontarvi un po' anche come seguirci perché noi poi siamo presenti sia sul territorio fisicamente che sul territorio con le nostre attività online che organizziamo da sempre devo dire e a cui teniamo moltissimo praticamente ogni regione ha a disposizione un gruppo nel nostro caso è un gruppo costituito da una funzionaria dell'ufficio scolastico regionale che si chiama Antonietta Marini da me che sono la referente pedagogica e un gruppo di ambasciatori e ambasciatrici che sono scelti e selezionati sulla base della loro esperienza della loro partecipazione pluridecennale al programma Erasmus ma prima anche ai programmi che hanno preceduto con nomi diversi il programma Erasmus e poi l'azione twinning noi ci rivolgiamo ai dossier ai docenti delle scuole di ogni ordine grado che ai dirigenti al personale non docente quindi è importante perché naturalmente il programma le azioni del programma Erasmus e le mobilità i progetti quindi i progetti di mobilità del programma Erasmus si riferiscono non soltanto allo staff docente ma anche come dicevano i nostri amici Annalise e Simone anche allo staff non docente mentre twinning effettivamente è specifico per docenti e alunni perché in piattaforma diciamo se non come ospiti e allora possono accedere anche altre figure però come partecipanti accedono i docenti e gli studenti perché effettivamente è una piattaforma operativa in cui si realizzano progetti progetti in orario scolastico rispondo già a una domanda che ho visto sin dall'inizio ossia la cosa interessante è riuscire come sottolineava Simone a far entrare i twinning nell'attività del TOF quindi l'attività curricolare le lezioni diciamo di tutti i giorni l'attività per esempio del curricolo di educazione civica tanto per dirne una ma le attività di approfondimento o di lavoro quotidiane perché insomma diciamo che altrimenti il rischio è quello di caricare e sovraccaricarsi anche se naturalmente la progettazione di twinning richiede un lavoro esterno alla lezione così come la lezione richiede lavoro esterno alla lezione però insomma è un'attività che motiva moltissimo ma che si può assolutamente svolgere all'interno dell'ora di lezione coinvolgendo come dicevano i colleghi anche altri colleghi del consiglio di classe quindi tirando dentro anche discipline che non siano solo le discipline linguistiche come diceva Simone ma discipline anche non linguistiche e quindi estremamente utile anche per le discipline CLIL soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado ma sapete da da tempi recenti il ministero si è espresso anche sulle sulla scuola sulla scuola media e quindi anche nella scuola media il CLIL tra l'altro ricordo anche che c'è questa questa azione del PNRR dedicata alle materie STEM al multilinguismo e l'aspetto che riguarda il multilinguismo e quindi la formazione CLIL le attività CLIL riguarda sicuramente non soltanto la scuola secondaria di secondo grado ma anche quella di primo grado e quindi ci rivolgiamo un po' a tutti con Erasmus e con i Twinning la formazione che facciamo noi siamo ogni anno seguiamo ogni biennio diciamo abbiamo una programmazione biennale e seguiamo questo per farvi un po' capire di che cosa ci occupiamo anche perché magari un futuro potrebbe essere interessante continuare a seguire le cose che facciamo per voi so che in linea ci sono dei docenti neoimmessi appunto come dicevo a Bionda noi ci abbiamo facciamo formazione anche con i docenti con gli studenti scusate di scienze della formazione primaria i temi sono sia le priorità europee e quindi appunto l'inclusione l'ambiente la trasformazione digitale ma anche delle priorità nazionali e regionali che ci vengono un po' indicati e che noi scegliamo per i nostri spazi di formazione ad esempio recentemente ci siamo occupati di intelligenza artificiale con una nostra ambasciatrice che è una ricercatrice oltre a essere una ambasciatrice si occupa proprio specificamente degli sviluppi dell'intelligenza artificiale generativa e con lei abbiamo tenuto un webinar e tra l'altro vi ricordo che tutte le nostre attività sono rintracciabili online sintetizzo veramente brevemente per lasciare lo spazio alle domande se no non c'è più spazio ho sintetizzato qui gli ultimi appuntamenti che abbiamo via via avuto con i nostri amici online in presenza il 5 dicembre ci siamo incontrati presso l'istituto comprensivo montargentario provincia di grosseto sempre parlando di internazionalizzazione con i tuning ed erasmus appunto il 6 dicembre ve lo dicevo abbiamo fatto un webinar sulla sull'intelligenza artificiale nello specifico ci siamo occupati l'intelligenza a 3L effettivamente mi sono resa conto che ho ecceduto con le L scusate non me ne ero accorta prima e comunque abbiamo parlato di chat GPT nello specifico quindi delle applicazioni di questa degli usi e delle meraviglie di questa di questa chat bot testuale l'11 dicembre abbiamo avuto un webinar sulle piccole scuole che è anche un tema molto molto caro a dei twinning e appunto un webinar sull'initial teachers education e un altro ci sarà a fine gennaio chi c'è dietro questo piano di formazione twinning ed erasmus come vi dicevo un gruppo che vedete oltre alla dottoressa marini a me naturalmente è portato avanti dalla scuola centro di costo che è il liceo stato Antonio Rosmini di Grosseto e dall'unità nazionale twinning entrambi collaborano per vari aspetti la scuola centro di costo come sapete in genere insomma non è l'unico progetto per cui entra in campo una scuola centro di costo è un gestisce gli aspetti amministrativi di questo di questo piano e l'unità nazionale twinning naturalmente con noi coordina tutte le attività unità nazionale twinning indire e mi piace ricordare anche i nomi se non i volti ma comunque i nomi molti di queste persone voi le conoscerete e appunto sono Francesca Panzica per Firenze Simone Bionda per Firenze che è con noi stasera Laura Maffei sulla provincia di Siena Annalisa Di Piero che è con noi sulla provincia di Pisa Sabrina Jacoponi sulla provincia di Firenze Riccardo Ricceri provincia di Arezzo Marcella Biserni Prato ora in distacco presso l'equipe formativa territoriale della Toscana di cui è anche coordinatrice Nadia Buti Arezzo Irene Caramelli Pistoia Lucia Cruschelli Livorno Laura Bozzi Grosseto è distaccata presso l'ufficio settimo della provincia di Grosseto e Marta Sanz Manzaneto anche lei è provincia di Livorno ma distaccata sull'equipe territoriale l'equipe formativa territoriale per la regione Toscana ed è proprio lei che si occupa come vi dicevo di intelligenza artificiale diciamo che io levo la interrompo la condivisione perché comunque volevo vorrei lasciare lo spazio anzi chiederei a Simone se è a piacere di rimettersi in video ci sono delle domande aspettate che levo la mia se volete visualizzo se no le domande così possiamo anche aspettate abbiamo ancora un pochino di tempo mi fa piacere visualizzare mostriamo eccolo qua possiamo provare a zoomarle un pochino per dare la possibilità a Simone e ad Anna Lisa di vediamo penso che si veda così però mettiamo magari a 130 ma dovrebbe vedersi le vedete voi le domande sul monitor ok diciamo che grossomodo la prima domanda abbiamo risposto è chiaro che i progetti non si possono esaurire nello svolgimento dei 60 minuti di lezione però invece altrettanto dovrebbe essere chiaro che non che non questo lavoro sui twinning non sia un lavoro che si fa solo nel proprio tempo ma un lavoro che si fa nel tempo della scuola con gli studenti assolutamente perché si tratta di lavorare con loro e con i partner delle scuole straniere nel caso di partner stranieri lo sapete anche con i partner italiani ma insomma il senso è un po' quello di aprire uno spazio internazionale da quello che abbiamo detto fino adesso insomma ci sono state tante sottolineature in questo senso volete pescarvi una domanda saranno disponibili le slide scusate entro io perché tanto le gestisco io quindi penso sicuramente di sì sia quelle di simone che quelle di analisa poi metteremo a disposizione anche la registrazione su youtube sul canale youtube twinning toscana e sul canale scusate non il canale ma sulla pagina facebook twinning toscana e anche sulla pagina instagram twinning toscana sto zitta perché magari do lo spazio a voi potete rispondere tu a qualche domanda ma sul scolastico strascolastico dipende molto poi anche dal gruppo come lavora l'anno scorso non tanto due anni fa ad esempio avevamo un gruppo molto affiattato quindi in realtà abbiamo anche ci siamo trovati diverse volte nel pomeriggio in certi periodi ogni 15 giorni avevamo una riunione molto lavorativo conviviale diventava un aperitivo online praticamente si parlava del progetto si decideva cosa fare la settimana successiva ci si dava degli obiettivi intanto magari si ognuno sbocconcellava qualcosa o brindava diciamo era nel tardo pomeriggio era una cosa simpatica intanto si lavorava diciamo si portava avanti il progetto un po' alla volta a volte capita ecco di dover fare riunioni in pomeriggio perché in mattinata siamo tutti in parallelo in varie ore di lezione quindi sì più che altro per organizzare le fasi successive a volte a volte anche i ragazzi lavorano autonomamente non ho detto che debbano fare tutto con il nostro controllo gli si lascia un lavoro magari da fare per la settimana successiva insieme ai loro compagni stranieri divisi in gruppi misti e loro sanno che magari entro il giovedì successivo devono averla inserita in piattaforma e quindi non lavoro in classe quella settimana non lavoro neanche fanno loro autonomamente quello è dipende ci si gestisce molto gli altri vedevo che erano quasi tutti su Erasmus forse Annalisa può dire di più allora intanto rispondo subito alla domanda per il docente a tempo determinato sarebbe meglio se cioè di solito si si sceglie di dare la possibilità di svolgere corsi di formazione ai docenti della scuola perché la ricaduta deve essere sulla scuola però nulla toglie che il preside perché è lui poiché decide possa decidere anche di far partecipare qualche docente a tempo determinato insomma se magari si può pensare che ci sia una qualche sicurezza di continuità e allora si può anche far partecipare il docente a tempo determinato ma è ovvio che la ricaduta deve essere sulla scuola e quindi quello è importante per quanto riguarda quanti progetti azione chiave uno e due si possono implementare in un unico accreditamento forse qui non non c'è non è non sono stata chiara io nella spiegazione ma l'accreditamento serve per muovere fare svolgere delle mobilità ai docenti e agli studenti e allo staff può partire anche il personale amministrativo ovviamente può partire anche il preside o il dirigente scolastico se io faccio una domanda per l'accreditamento posso poi non farò la domanda per il K K 122 perché mi concentro sull'accreditamento cioè non è che si possono fare tante cose insieme perché portare avanti questi progetti che sono molto impegnativi significa utilizzare molte energie e molte risorse quindi come si fa a fare più progetti in contemporanea cioè bisogna essere veramente dei supereroi cioè magari concentriamoci su avere l'accreditamento scuola avere l'accreditamento vet se siamo una scuola superiore e poi ci concentreremo lavoreremo per K 122 o per il K 210 cioè sono delle cose diverse non è che si può mettere tutto nel pentolone è cambiato appunto nuovo programma significa che le cose sono cambiate rispetto al passato dove prima si potevano fare più progetti è sempre stato molto complicato molto impegnativo ma ora insomma lo è diventato anche di sempre di più anche perché poi non dobbiamo dimenticare tutta la parte della rendicontazione che è veramente molto molto impegnativa bisogna produrre dei documenti bisogna gestire questo denaro insomma anche la segreteria non è che ce la fa già le nostre segreterie sono sempre super oberate di lavoro poi ci mettiamo anche più progetti Erasmus le segreterie ci sono ora poi che ci sono tutti i decreti del PNRR cioè le segreterie sono veramente sono arrivate proprio al limite quindi insomma facciamo una cosa alla volta cerchiamo di farla bene in maniera completa quando poi diventeremo pratici abbiamo anni e anni di esperienza allora uno si può permettervi fare più cose questo è il mio consiglio poi ognuno è libero di fare come crede sì ma infatti per esempio prima c'era una domanda che poi forse è stata cancellata in corso d'opera la domanda era circa la possibilità o l'opportunità di fare il doppio domanda di doppio accreditamento vet e scuola insomma sono delle attività grossissime effettivamente di grande impegno e oltretutto insomma come dicevi tu sottolineavi tu impiego di grandi risorse la cosa importante da capire per esempio io ricordo tantissimi anni fa quando ancora Comenius era il programma diciamo attivo e c'era il famoso c'erano le famose mobilità individuali per i docenti adesso questa cosa adesso con Erasmus più tutto questo è diventato piano di scuola come voi avete sottolineato benissimo per cui tutto questo tu l'hai sottolineato più volte tutte le necessità diciamo di il piano vero e proprio di mobilità viene e anche di accreditamento ancora a monte viene da necessità concrete cioè quali sono i punti deboli quali sono i punti di forza dove è la scuola come funziona sono tutti i documenti proprio fondamentali della scuola per cui non esiste più pensare di dire Simona Bernabèi vuole andare a Siviglia a fare la mobilità Simona Bernabèi la farà se nel piano complessivo torna diciamo utile all'economia del progetto di scuola e questo è quello che deve essere chiaro per cui ci sarà sicuramente uno sta un gruppo che lavora Erasmus perché non ci possono lavorare tutti anche perché è un grande impegno francamente bisogna avere anche delle capacità assolutamente delle competenze ben specifici di organizzazione sì certo e poi dipende anche da quanto è grande una scuola se ci sono scuole da mille studenti in su allora ci può essere un gruppo che lavora sugli Erasmus grosso per esempio nella nostra scuola non siamo dieci c'è chi si occupa dell'accreditamento vet e chi si occupa dell'accreditamento scuola perché la stessa persona non si può occupare di tutte e due le cose perché poi quando si tratta di far partire ragazzi nelle aziende lì ci vogliono trovare l'azienda contratti con le aziende il soggiorno che può variare da un mese a tre mesi quindi tenere sempre stare cioè io avevo ragazzi che scrivevano lunedì notte su whatsapp che avevano delle problematiche nella casa dove stavano bisogna questa era un'esagerazione perché ci sono comunque sempre noi ragazzi particolarmente ansiosi che magari partono per la prima volta all'estero stanno da soli un mese due mesi e quindi insomma è una grossa crescita ci sono anche delle belle soddisfazioni per esempio noi abbiamo avuto proprio ultimamente un ragazzo che era andato a fare lo stage a Berlino in un'azienda di Berlino di informatica e ha fatto tre mesi perché lui era già diplomato e proprio perché è partito ad agosto quindi a metà agosto settembre ottobre novembre è tornato ci ha detto che l'azienda gli ha fatto la proposta di assumerlo a tempo indeterminato e lui ha accettato cioè come in questo caso ce ne sono stati anche altri di questi casi che le aziende poi ti offrono il lavoro a tempo indeterminato perché magari ti sei dimostrato un bravo lavoratore e tutto il resto queste sono delle belle soddisfazioni per la scuola però bisogna gestirle tutte queste cose ci vuole veramente veramente un grossissimo impegno e energia ma certo ma poi per esempio anche solo pensare alle al linguaggio diverso dovuto al fatto che ci si occupa di ci si trova in ambiti diversi che utilizza indire per il settore scuola e inap per il settore vet cioè se tu parli con persone di indire e di inap si parla di modi differenti completamente diverso per cui ti dicono proprio sono loro stessi che ti dicono ma io di là non so per cui è proprio come non dico che se si parlassero lingue differenti però insomma è comunque bisogna reguarsi ad avere direi anche sviluppare delle competenze in un settore o in un altro perché altrimenti si rientra nel regno dei tutologi che è anche un regno abbastanza che vale poco insomma poi voi siete persone che hanno grande esperienza quindi sapete io penso che siano preziosi i vostri consigli io vorrevo sapere da da Simone perché appunto che cosa dai un consiglio a chi ci ascolta agli ascoltatori in linea nel perché sul perché dovremmo fare twinning cioè concreto proprio perché tu sei uno che ha fatto tanti progetti ha avuto tanti riconoscimenti anche Annalisa ma insomma questa sera abbiamo diviso abbiamo diviso i vostri ruoli quindi abbiamo identificato poi in realtà i ruoli come al solito sono molto sono molto meno definiti chiaramente perché siete esperti anche nell'altro ambito ma Simone ecco io sono fai conto una docente che arriva e che ci conosce per la prima volta stasera e dice ma perché lo dovrei fare perché ci permette ai ragazzi di usare la lingua straniera per interagire con dei coetanei all'estero essenzialmente quello poi magari si può anche decidere di non sviluppare una tematica particolarmente profonda un aspetto che sia trasversale a più materie insomma si può fare anche una cosa molto semplice però davvero è una possibilità per i ragazzi di uscire al di fuori di quella che è la lezione in classe sul libro di testo e di affrontare argomenti che trattiamo in classe insieme ai loro coetanei usando la lingua straniera come mezzo anche per compiti semplici ma diventa davvero un mezzo per fare altre cose cioè studiano la lingua senza ragionare sul fatto che stanno studiando la lingua che la stanno utilizzando ma con la finalità di creare qualcosa che a noi serve ad esempio per altre materie o per valutare altre competenze che non sono quelle estremamente disciplinari ecco quindi tante possibilità quello è un esempio e ho d'esempio perché ci può permettere di affrontare parti del programma che altrimenti ci lasciano sempre un po' perplessi su come fare ad esempio il modulo di educazione civica adesso l'orientamento le possibilità che ci offre sono davvero tante basta avere un po' di fantasia e poi vedere come e quanto si sanno spingere i ragazzi secondo me merita sicuramente perfetto voi allora mi sembra che le domande grossomodo le abbiamo le abbiamo così gestite e naturalmente ricordatevi come diceva Annalisa vi ha ricordato il suo indirizzo io adesso vi faccio ma forse non ha nemmeno tanto posso essere anche più dunque Annalisa aspetta volevo mettere qua sotto il Erasmus Plus la pagina quella dei degli ambasciatori metto un attimo il link così ci sono nella c'è una pagina specifica del sito che è dedicata appunto come vi diceva Annalisa volevo mettervi il link è giusto una questione di un secondo ok eccola qua ve la metto sulla sulla chat e a questo punto io credo che noi possiamo senz'altro direi salutarci e dare appuntamento all'anno nuovo perché da primavera in poi realisticamente ripartiremo con le nostre attività le slide vi verranno inviate insieme alla documentazione via mail vi verranno mandate le slide il questionario di monitoraggio i link che vi servono e basta volevo ringraziare Annalisa anzi vorrei ringraziare non volevo vorrei ringraziare Annalisa e Simone per essere stati qui questa sera grazie mille perché in chiusura di mese veramente dicevamo prima siamo tutti un po' lottando contro il tempo ringraziare voi che ci stanno dicendo che ci ringraziano per questi interventi utilissimi e ci augurano buone feste e buon anno ovviamente ricambiamo a voi gli auguri di buone feste e buon anno e ci vedremo nel 2024 belli più che mai belle più che mai energetici più che mai dopo una pausa invernale speriamo che ci ricarichiamo un po' va bene grazie Simona grazie Simone grazie a tutti per aver partecipato e tanti auguri serene vacanze a tutti ci rivediamo con i prossimi webinar arrivederci buona serata a tutti arrivederci buona serata arrivederci Simona poi ti mando a tutti a tutti a tutti Grazie.